Nel liceo Pallone trovi il liceo scientifico delle scienze applicate TRED. C'è? Come c'è? Il liceo TRED è un indirizzo liceale sperimentale che consente di conseguire il diploma in quattro anni invece che in cinque puntando sulla transizione ecologica e digitale fondamentali per un futuro dove economia e salvaguardia dell'ambiente lavorino in armonia per la promozione di uno sviluppo sostenibile. E perché c'è il proprio liceo modellare? Perché consente agli studenti di terminare il loro percorso liceale a 18 anni proprio come la maggior parte dei loro coetane europei. Inoltre, gli indirizzi quadriennali assicurano l'insegnamento di tutte le discipline proposte dai percorsi delle scienze applicate facendo però ricorso alla didattica laboratoriale all'introduzione di nuove modalità innovative alla didattica digitale e alla flessibilità didattica.